ciao ragazzi se volete rimanere aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video ciao e buona visione buongiorno a tutti i popoli youtube ciao ragazzi 886 di bancomatti allora quest'oggi vi portiamo una promo lampo su mcdonald mai vista mai vista devastate ok allora andiamo subito in un angolino almeno facciamo vedere anche l'immagine di tutto ok perfetto mickey allora già qua si vede tutto guarda qui che meraviglia spiegaci un attimo la semplicità di questa promo che cosa bisogna fare e come procedere praticamente ragazzi noi poi nella descrizione vi lasciamo il link voi dovete cliccare su quelli semplice 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 la promozione è partita il 15 di giugno scadrà il 25 di giugno cioè giusto a 10 giorni quindi è una cosa rapida esatto con questa promo potremo avere tutta la linea dei panini big tasty original original bacon chicken e chicken bacon col 25 per cento di sconto fino al 25 giugno 2017 giusto praticamente bisogna solo cliccare sul link che vi lasciamo sotto vi si aprirà la schermata della promovare cliccate sulla voce scarica il coupon perfetto lo scarico l'abbiamo scaricato proprio in questo momento lo scaricate e vi viene fuori appunto il pdf potete tranquillamente stamparlo o presentarlo dal telefonino perché c'è il qr c'è il qr si stampa questa pagina digital tasto su o un coupon paparapapa solite storie oppure mostrano direttamente in cassa facilissimo facilissimo non stampate nemmeno non consumate i fogli e stampate esatto è la roba più facile di questo mondo se volete poi anzi se riusciamo vi mettiamo un video di come si fa a mangiare il panino dai nooo no per scaricarlo per scaricarlo va bene va bene ve lo facciamo vedere si dai ve lo facciamo vedere passo passo all'utenza si fa vedere facile non mi preoccupate che pensi in me come si dice in questo video ve lo facciamo vedere passo passo ottimo ottimo cosa dici Fuzzker schiaccio qua su start recording vai vai di start recording ok praticamente siamo qua sul sito della promo posto facile abbiamo cliccato sul nostro bellissimo link chiudiamo tutte le paginette stupide clicchiamo su scarica il coupon perfetto l'ha scaricato in un mili nanosecondo uno l'abbiamo scaricato prima in diretta adesso questo è di backspace esatto clicchiamo eccolo qua abbiamo il nostro super coupon tac pronto ci aspettiamo da qui ci vediamo per risultare il panino 25% di sconto vale le cose che vi abbiamo detto prima in modalità live perfetto guarda qua vi sottolineiamo il QR e tutto vi sottolineiamo che scade il 25 giugno tutta la gamma di panini qui si può abilitare il 25% di sconto e ci siamo il gioco è fatto ottimo richiudiamo direi fatelo da smartphone da smartphone di papà da smartphone della mamma esatto e così ci si smartphone di cuba non c'è ancora non c'è ancora la piccolina si è comportata mamma niente facilissimo ritorniamo grandi a questo punto ok micchi dopo questa promolampo mac facile io direi un crescere mi raccomando ciao a tutti i soliti link in descrizione mi raccomando la descrizione qui è molto importante perché vi farà appunto trovare il link dove semplicemente dovete cliccare e seguire quello che avete visto nel video mi raccomando continuate a seguirci come state facendo commentare fare i magici pollici che fa ogni tanto anche se ultimamente bisogna riprendere un po' l'utenza perché pollici pochi pochi eh purtroppo purtroppo si bisogna spolliciare no spolliciare polliciare 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 e dopo questa promo vi direi un buon appetito a tutti e un abbraccio dai Bancomatti ciao ciao